Beh, sicuramente uno sportivo vive delle energie che poi si creano nello spogliatoio, che si creano in campo, specialmente il nostro, che è uno sport di contatto, vive di questo fondamentalmente. Quindi per noi è stata sicuramente la parte più importante, insomma, poi di fatto ogni atleta si allena e si tiene in forma per competere, quindi le due partite sono state un punto di partenza ed è stato importantissimo per noi iniziare da lì. Ora quindi abbiamo iniziato anche con i raduni della nazionale e stiamo costruendo questo percorso con Franco per arrivare comunque il più preparati possibile anche per queste ultime due partite del 6 nazioni e questa nuova competizione alle porte che si terrà insomma tra i mesi di novembre e dicembre. Beh, sicuramente stiamo cercando di progredire con l'intensità e con la qualità degli allenamenti, visto che comunque sappiamo che quello che abbiamo fatto fino ad ora non è bastato, quindi stiamo cercando di alzare anche un po' gli standard. E' una cosa che stiamo facendo, logicamente non si può pretendere di fare da 0 a 100 comunque in poco tempo e sarebbe impensabile chiedere questa cosa comunque anche a uno staff che è comunque stato in parte rivoluzionato, però stiamo cercando comunque di costruire tappa per tappa questo nuovo percorso che ora ci vede comunque impegnati già ad un buon livello, insomma ci stiamo preparando già bene anche in vista della prima partita contro l'Irlanda. Beh, sicuramente sono importantissime, ora è inutile negare che lo sport sta diventando un po' comunque, soprattutto quello professionista, come una grande azienda, quindi è importante saper delegare anche ai propri membri dello staff le varie mansioni che servono per completare tutto quello che è un unico obiettivo e un unico percorso. Per quanto riguarda nello specifico appunto gli atleti sono dei mattoni molto importanti, quello dell'alimentazione, del recupero, della salute anche mentale perché comunque siamo messi sotto pressioni anche comunque durante l'anno e durante gli allenamenti, visto che comunque ci devono essere sempre degli scontri anche con persone per giocarsi magari il posto piuttosto che comunque figurare bene durante gli allenamenti per essere convocato dall'allenatore. Quindi comunque anche la salute mentale per un atleta è importante e tutti questi mattoni logicamente vanno curati e ora questo staff allargato sta cercando appunto di portare il più possibile in termini di qualità anche fuori dal campo.